Grazie a tutti, grazie! Olé, olé, olé! Guardo, guardo! Nervoso! Come è nervoso? Guarda chi è se, guarda chi è se, guarda chi è se! Sai che voglio di più! C'è qualche problema? Guarda chi è! Guarda i voli parlano del tuo nome! Guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda che io! Ele va a fare le vanno per la torre! Passiamo avanti a lola!